Bing, sono Sula! Ci sei? Ciao, Sula! Flop, sto cercando Bing! Dov'è? Guardalo, è lì! È nella casetta degli attrezzi! Sta cercando qualcosa! È assieme a Charlie! Oh, che cosa sta cercando? Questo non te lo so dire! Vai, chiediglielo tu stessa! D'accordo! Bing! Ciao, sono Sula! Ciao, Sula! Ah, Sula! Che cosa stai cercando, Bing? Flop mi ha detto che stai cercando qualcosa! Oh, già! Sto cercando la mia mascherina da sub! Oh, la mascherina da sub! Sì, voglio andare al mare con Charlie e fargli scoprire il mondo che c'è sotto al mare! Oh, il mondo sotto al mare! È vero, sotto al mare c'è un fantastico mondo, ma non riusciamo a vederlo senza mascherina! Già, vorrei tanto che Charlie venisse al mare per ammirare tutti i pesci colorati! Sula, ci dai una mano a cercarla? Ma certo, Bing! Crea una mascherina da sub! Sarebbe bello se Charlie potesse vedere ciò che c'è in fondo al mare! Fai una strisciolina, così! Prendi Charlie e vai attorno al suo musetto! Togli l'eccesso! Wow, sembra contento! Ora serve il boccaglio! Il boccaglio permetterà a Charlie di respirare sott'acqua! Prendi il blu! Fai una strisciolina! E mettila qui! Wow, Charlie è già perfetto! Ma vogliamo fare altre mascherine per Sula e per Bing? Facciamo la mascherina a Sula! Prendi una strisciolina di colore diverso rispetto a quella di Charlie! Ed ecco Sula! Fai anche a lei una splendida maschera! Ed ora il boccaglio! Puoi farlo giallo! Ed ecco qui! Il boccaglio di Sula! Manca solo Bing! Ed ecco Bing! Per lui scelgo l'arancione! Ecco la mascherina! E il boccaglio facciamolo rosso! Ed eccoli! Sono proprio pronti per esplorare le profondità del mare! Oh Sula! Senza di te non ce l'avremmo mai fatta! Beh, è bastato aprire tutti gli scatoloni di questa casetta! Già! Ed ora? Vi va di andare al mare? Insomma, abbiamo la nostra mascherina! E il pomeriggio libero! È vero, oggi pomeriggio non ho nulla da fare! Potremmo proprio andare al mare! Sìììì! Charlie, Bing e Sula sono arrivati al mare! Ed è una fantastica giornata! Charlie! Guarda! C'è il primo animaletto! Ci sta venendo incontro! Oh! Allora! Non serve la mascherina da sub per incontrare le fantastiche creature del mare! ehi ciao piccolino ma che cosa hanno visto bing sulla e charlie hanno visto un granchio è facile trovare i granchi lungo la spiaggia creiamone uno prendi della pasta modellabile fai una pallina questo colore è ottenuto mescolando assieme più colori rosso nero arancione e giallo il granchio a quattro zampe per lato ma davanti a due kele molto grandi fanne un'altra e appiattisci e ora facciamo le zampette più piccole una qui un'altra qui e altre due rivolte verso il retro una due e due dall'altro lato ora con un attrezzino per play doh o stuzzicadenti apri la kela dividila in due e anche questa wow ora mancano gli occhi facciamogli grandi due palline bianche ne mettiamo qui e poi due palline nere ecco fatto questo è il nostro amico granchietto come sei carino attento bing non avvicinarti troppo guarda che kele grandi che ha ma non fa nulla ciao amico ed ora dove sta andando sta entrando in acqua va nel mare vi va di seguirlo charlie mi pare voglia proprio inseguire quel granchietto ma abbiamo già le mascherine è un'ottima occasione per usarla forza eccolo charlie è venuto qui per ammirare i pesci creiamo dei pesciolini per charlie prendi un foglio e disegna dei pesci fai le pinne ed ora sbizzarrisciti con i colori puoi farne uno blu con delle striature colora questo pesce di blu colore il resto di giallo se non vuoi disegnare puoi stampare direttamente dei pesci trova delle immagini o delle fotografie di pesci e stampale fanno un altro verde e poi cambia colore ora ritaglia i pesci taglia lungo il contorno ora prendi due bastoncini per spiedini appoggiali sul retro dei pesci e incolla ed ecco arrivare i nostri pesciolini ehi guardate ci sono dei pesci o charlie li hai visti wow ehi ma ora sono un po stanco ci riposiamo un po a bing e i suoi amici sono stanchi di nuotare creiamo per loro un gommone prendi della pasta modellabile e appiattiscila devi creare la base per il gommone e deve essere abbastanza grande per contenere bing charlie e sulla così può bastare si stringeranno ora prepara delle striscioline prendi l'arancione e fai una strisciolina ed ora la strisciolina mettila qui e mettila qui direi che è perfetto mancano solo i remi prendi del giallo fai una strisciolina una parte lasciala più grossa e appiattiscila ecco un remo ma fermalo con un gancio arancione fai la stessa cosa dall'altra parte un remo e bloccalo perfetto ora passeranno una fantastica giornata oh ci voleva proprio un gommone per riposarsi già così non siamo costretti a ritornare in spiaggia e quando vogliamo re immergerci in mare possiamo farlo ed ora grazie per aver giocato con noi lasciate un pollice in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo al prossimo video ciao